Un pezzo di... un po' emergente, un po' emergente, ragazzi, chiamolo Slade. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie per la visione! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!